Salve a tutti ragazzi, sono Lugas90 e sono quest'oggi qua in compagnia di Albi Buongiorno, io sono Albi Per andare a commentare questa finale che si andrà a disputare tra gli Anarchy Killer e gli Anarchy Killer Veterani, quindi praticamente due clan, praticamente lo stesso clan se non due fazioni diverse Per il Play Now by Telecom Italia Quindi eccoci qua su Bootleg per vedere come andrà a finire questa finale che si discuterà su tre partite, no? Sì, no, in realtà questo è un formato diverso nel senso che il primo che vince tre partite riuscirà a portarsi a casa il titolo finale Quindi il titolo finale, il premio, il primo premio E ovviamente il titolo di vincitori del Play Now by Telecom Italia di Modern Warfare 3 su Playstation 3 Ecco, ora stiamo guardando dalle visuali il secondo team degli Anarchy Killer Primo e secondo team, non per qualche motivo particolare, non certo per bravura Perché sono entrambi dei team fantastici, ma semplicemente per denominazione Quindi vediamo qua che, a differenza di molte altre partite che abbiamo commentato anche ieri E qua vediamo subito un sacco di azione, non è neanche un minuto e già sono state raccolte 15 piastrine Con il secondo team degli Anarchy Killer che è secondo, gioco di parole, rispetto al primo team Che, anzi no, hanno pareggiato in questo momento, davvero un'azione strepitosa Ma sicuramente questo avviene anche perché diciamo ormai il titolo è in casa Il titolo se lo portano a casa gli Anarchy Killer e quindi insomma se la sono giocate in maniera Magari un po' meno conservativa, sapendo che alla fin fine quello che dovevano fare l'hanno fatto E portando addirittura appunto i due team nella finale, sicuramente è già stato un risultato positivo E in questo momento si trovano a disputare una partita forse con un atteggiamento un po' più sciolto E soprattutto più aggressivo rispetto a quello che vi era nelle partite precedenti Già, vediamo comunque davvero un testa a testa sorprendente perché siamo qua 14 a 14 Un pareggio, vedete, infiltrazioni tattiche per recuperare immediatamente le piastrine Come abbiamo visto anche nelle partite scorse Rino del secondo team degli Anarchy Killer con le sue G18 Akimbo non ha paura di niente Si mette a rasciare come se fosse un pubgame E sì, sicuramente come ha detto Lego Ormai gli Anarchy Killer hanno i titoli, il primo e il secondo titolo in tasca con i loro due team E certo, stanno comunque combattendo per una differenza del valore dei premi Che comunque, insomma, ognuno di questi giocatori riceverà un premio Che può essere o un monitor da 40 pollici o un semplice cellulare Ecco, poi magari uno ha già il modo Semplice, si fa tra virgolette Sì, no, effettivamente i premi che sono stati messi in palio per questo tornare Sono davvero qualcosa di goloso Infatti un sacco di team si sono iscritti Soprattutto per anche altri giochi Comunque, vediamo qui qua, è davvero un testa a testa fino all'ultimo 24 a 26 Vediamo il primo team degli Anarchy Killer Che ha in vantaggio di soli 3 punti 3 piastrine, ora diventano 4 E vediamo se ci sarà la rimonta C'è tutto il tempo per farlo Se il secondo team decide di giocare magari con un po' più di cautela Ma siamo 29 a 25 Vediamo qua un accerchamento da dietro Invece no Il primo team riesce a vincere con un margine di 4 piastrine Sicuramente comunque è stata una bella partita da vedere Perché comunque è molto ben combattuta Ma soprattutto non c'è stato un momento di pace Soprattutto si è svolto tutto lì a centromappa E c'era una morte dietro l'altra Una negazione dietro l'altra È stata davvero una partita molto accesa Che nel giro di 3 minuti si è conclusa È stata davvero molto bella da vedere qua Sì 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 È abbastanza Come dico io Intrattenente questa traduzione letterale Intrattenente Bello bello Esattamente Vediamo la seconda partita Sembra che sarà ancora una volta su bootleg Magari questa volta avremo Avremo la possibilità di vedere Il punto di vista dell'altro team O forse no Vediamo un attimino l'arbitro che cosa ci offrirà Perché appunto vi ricordiamo che Come i video che sono usciti ieri Anche questi sono dei video che commentiamo poi Ex post Perché appunto non abbiamo avuto la possibilità Di registrare il nostro commento Che c'è stato là sul megaschermo Che comunque per le gran finali c'è stato Ed è stato davvero simpatico Ecco Mi pare che Che sono stato io No 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 Eri stato te e IG Per la Playstation 3 e IG C'erano dedicati No E comunque appunto No momento bootleg Per Scusami un attimo Solamente No momento bootleg Perché le fazioni portavano Se non ero Ognuno una mappa E andava disputata su due match Nella medesima mappa Per Vedere comunque Si si vede che erano dei team Che si sono specializzati Entrambi su Su questa mappa Comunque Ora stiamo vedendo Silent Sniper Che se non sbaglio È il capitano Del team dei veterani Del primo team Degli Anarchy Killer Quindi Vediamo qua se ci sarà un po' di azione Le flashbang esplodono E questo sangue può Iniezione interessante Questo sangue No no Non è morto Invece è morto Ok Siamo 4 a 2 5 a 2 Comunque per i nostri veterani Quindi il primo team È ancora in vantaggio Se vincerà questo game E se vincerà anche Il terzo dei game Beh il titolo sarà loro E con loro il premio finale Vediamo nel frattempo L'arbitro che ci fa cambiare visuale Quindi torniamo Ai nostri second team Non sperato E Gangnaman Che rushano Come vediamo Sembra un clone Della partita scorsa Non hanno paura di niente Continuano ad andare Davvero come se Come se stare fermi Potesse essere un rischio Anche se in questa partita Comunque si vede come Se nella prima C'era un maggiore equilibrio Andavano di pari passo Una piastrina Alla volta Per entrambi i team Qua c'è già un piccolo distacco Importante Per i veterani Che è di 7 Piastrine circa Sì Sì beh C'è da dire che Prima comunque Il secondo team Ha recuperato davvero Una quantità impressionante Di piastrine Nel giro di qualcosa Come 10 secondi Quindi nulla Nulla è detto Quando si rusha in questa maniera L'esito della partita Diventa sicuramente Anche molto più imprevedibile E quando si rusha Come vediamo Si usano sempre Pistole mitragliatrice E queste amatissime A Kimbo Desiderate da tutti Che beh Comunque fanno Il loro sporco lavoro E rushando Trovandosi sempre Nei pressi del nemico Alla fine È meglio optare Per un'arma Che ti dà Certe sicurezze Nella velocità di estrazione Di fuoco E di rate Già Ma tu cosa ne pensi Di questo fatto Che in questo torneo È stato deciso Insomma Di lasciare anche Questo genere di armi Abbiamo visto Che comunque Erano permessi Anche i lanciagranate Ma a parte forse Un paio Usati in modo Comunque molto tattico Non ne abbiamo visti Invece Da padrone L'hanno fatta un po' Queste FMG9 A Kimbo Ma sicuramente Nel momento in cui Il regomento Ti dice che Tu sei portato A non utilizzare Solamente ricompensa Uccisione Di conseguenza Ti regoli Andando a sfruttare Quelle che magari Sono le armi Più performanti Dal mio punto di vista Storco un po' Il naso Perché comunque Sarebbe stato bello Vedere un regolamento Che avrebbe imposto Magari delle regole Un po' più ferre Andando a limitare Magari quelle armi Che insomma Sappiamo benissimo Essere Sopra la media Più facili da usare O comunque più facili da usare Diciamo che Comunque sia Tornando un pochino A noi Il team dei veterani Il primo team Degli Anarchy Killer Vince 30 a 13 Questa partita è stata Decisamente In mano loro Per tutto il tempo E ora andremo ad un terzo game Vi ricordiamo Questo è praticamente Alla meglio delle 5 Quindi chi vincerà Questo game Se lo vinceranno i veterani Avranno direttamente vinto Mentre invece Se il secondo team Riuscirà a portarsi a casa Una e poi due vittorie Si andrà addirittura Ad una quinta partita Ora si cambia mappa Vediamo un po' Da vera scelta Resistance Penso che Albi Penso che Bootleg E Resistance All'interno del torneo Siano state le due mappe Più scelte Da tutti i team Presenti Penso di averle viste Quasi sempre Sì 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 A parte magari Un po' di arcade Ne hard hat Se non sbaglio Anche che ho visto Alcuni team Portare queste mappe Nel C Bootleg E Resistance Sono tra le più giocate Ma anche perché Sono probabilmente Le mappe degli Anarchy Killer Che comunque Erano due team su quattro Erano loro Per quanto riguarda La Playstation 3 Quindi portando probabilmente Entrambi le stesse mappe È per questo Che le abbiamo viste Davvero così tanto Ora vediamo che la partita Parte immediatamente Vediamo se Ancora una volta I veterani Si porteranno la vittoria O sarà il secondo team Questa volta A prevalere Tra l'altro Resistance Penso che Come in tutte le mappe Si andrà sempre Insomma L'azione si andrà sempre A concentrare Nel centro mappa Dove c'è Quella casa Con Quella bella cucina Dove si trova sempre la morte È veramente molto pericoloso Quella zona Io Sono veramente curioso Di come se la Giocheranno Perché potrebbe essere Una buona scelta Andare subito A prendere quella casa Per difendersi All'interno Perché comunque Entrare Sarebbe un rischio Oppure Andarsela a giocare Per il resto della mappa Che può essere anche Una scelta Insomma Interessante Dipende un po' Dell'atteggiamento Del squadro Certo Ieri hai commentato Una partita con i GT Io ne ho commentata Una con Evil In una delle mie partite Mi è capitato di vedere Una partita In cui Secondo team Degli Anarchy Killer Molto furbamente Su Ardat Riusciva a catturare Un punto strategico Dopo aver magari Guadagnato un vantaggio Di piastrine E stare lì Tutti e cinque Tenendo bene Quel punto Saldo Un punto Abbastanza impenetrabile Insomma Per riuscire sempre A recuperare i piastrini Di quelli che morivano E creare una fortezza Impenetrabile In modo che i nemici Non potessero Neanche appunto Provare a prenderla Una piastrina Perché dovevano Ammazzarli tutti e cinque E non è facile Uccidere cinque persone Quando queste cinque persone Sono in un punto Ben fortificato Ecco Qua ad esempio Questa casa potrebbe essere Essere simile Il fatto che Probabilmente Gioca anche un po' Il fatto che È molto piccola Questa casetta E quindi le granate Possono essere Un serio problema Sicuramente Comunque gli attenti Che abbiamo visto Spesso sono stati Molto conservativi I team Tendono molto a Predominare una zona Tenere il controllo Di una zona Proprio per come Ha spiegato Albi Dà la possibilità Comunque di appoggiarsi Sempre sul compagno Che sì Tu potrai morire Ma ci sarà il tuo compagno Che andrà a negare la piastrina E eventualmente Prendere quella dell'avversario Quindi per quanto riguarda Kill Confirm E le mappe che abbiamo visto L'atteggiamento osservativo In determinate eri Della mappa È risultato anche Quello più proficuo Perché lasciare Senza un compagno Vorrebbe dire spesso Regalare piastrine Alla squadra avversaria Che è ciò Che non deve assolutamente Accadere in una partita Di Kill Confirm Comunque se vediamo Che questa partita È bella combattuta 10-9 In questo momento Il secondo team È in vantaggio Di una piastrina Vediamo se Riusciranno a A snowballare Diciamo da questo punto E riuscire a guadagnare Un vantaggio più consistente Che è un solo punto Che insomma Può sfumare come niente In questi tre minuti E qua ancora una volta Appunto vediamo Che questa casetta Viene È un po' come diceva Lego Come ha ben predetto Al centro della reazione Ma appunto Vediamo qua Oddio Si è suicidato questo Ho visto male? Mi sembrava Che si fosse Ucciso da solo Con la RPG Comunque Come appunto Ho detto Qua le granate Sono E la doppia kill Di Rino Che vediamo Se riuscirà A recuperare Le piastrine Ecco Questo è Un pochino Il bello Il brutto Di questa modalità Non basta fare Il kill Bisogna anche Esporsi Bisogna anche Andarsela A prendere Queste kill Nel senso Proprio di Prendere la piastrina Del morto Che abbiamo appena ucciso Quindi si Insomma Camperare In questa casetta Non basta Se noi facciamo Le uccisioni Magari con le granate Di persone Che vogliono entrare E i loro compagni Sono abbastanza veloci Da recuperare La piastrina Vediamo intanto Un pareggio Anzi no Il primo team Il team dei veterani Va in vantaggio Con tre punti Esattamente Si porta in vantaggio Soprattutto Riesce magari A stanare L'altro team Dalla casa centrale Difatti l'azione Si è spostata All'esterno Cosa che Da qui giova Un po' lo spettacolo Perché trovare sempre Quelle situazioni Concitate all'interno Dove si vedono Solo esplosioni E ben pocazione Adesso finalmente Vediamo un po' Come i due team Se la stiano giocando Al di fuori Di questo edificio Vedere come Se la caveranno Soprattutto Comunque sì Ora il vantaggio È sempre lo stesso Anzi no C'è stata una bella Doppia piastrina In favore del primo team Quindi il secondo team Deve darsi una mossa A un minuto E 45 secondi Per recuperare Un vantaggio Di 5 kill E magari Di 5 piastrine Più che 5 kill E magari riuscire anche Insomma Ad arrivare a 30 Che è l'obiettivo finale Che non abbiamo visto Essere raggiunto Molto spesso Vediamo intanto Che il nostro arbitro Switcha di nuovo Al primo team Il primo team Vediamo qua Nitro con il suo PP90 E appunto Come vedevo Come dicevo Anche nel video scorso Sono stato un pochino Curioso nel vedere Molti PP90 E molti meno MP7 Comunque Vediamo che il primo team Riesce a raggiungere La vittoria di questa Terza partita di fila Quindi una vittoria Abbastanza schiacciante 30-17 dopo La vittoria che c'era stata Prima E il primo team Degli Anarchy Killer Si guadagna Il primo posto In questo torneo Esattamente Lasciate un bel mi piace Ora passiamo All'intervista Ciao 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 Buongiorno Non poteva andare Contentissimi E anche molto emozionato Devo dire Personalmente Anche grazie ai miei ragazzi Ho vinto Logicamente Il merito va a tutta la squadra Sono soddisfatissimo Meglio di così Non poteva andare Insomma Bene Ora faccio una domanda Al capitano del secondo team E gli voglio chiedere Ma tra questi due team Diciamo dello stesso clan C'è rivalità O siete degli amiconi? No No Quale rivalità? Siamo stati felicissimi Innanzitutto Noi come secondo team Di arrivare Qui in finale Perché Per come era nata L'idea di partecipare al torneo Non Non ce la saremmo mai aspettato E comunque È ovvio che Abbiamo vinto E abbiamo vinto tutti oggi Non ha vinto La veterana Non abbiamo perso noi Quindi Una grande festa per tutti Perfetto I premi che avete preso Sono belli consistenti Un sacco di monitor Un sacco di cellulari Quindi Più contenti di così si muore E con l'organizzazione del torneo Come è stata? Vi siete trovati bene? Vi è piaciuta? Soprattutto È la prima lana A cui avete partecipato? È una di tante? Dile la verità È la seconda in un anno Che vinciamo Abbiamo già vinto Uno a Torino A marzo E Però i settaggi Erano leggermente diversi E su un cerca di struggi veterano I settaggi di questo torneo Sono stati un po' particolari Perché erano diversi Dagli standard italiani E anche europei Credo Però ci sono piaciuti Comunque Ci siamo divertiti sicuramente Gli organizzatori Li conoscevo già di persona Quindi Sapevo che avrebbero fatto Un ottimo lavoro Perfetto Ora Lui ha parlato degli organizzatori Io Chiedo a te adesso Com'è che siete venuti A conoscenza di questo torneo In particolare? Ma Abbiamo Abbiamo visto Un po' di spam online Ci hanno invitato Anche Soprattutto La prima squadra E si è invitata E poi ovviamente Ci siamo noi Della seconda Accodati A loro Certo Lo spam aiuta sempre Quindi Ragazzi Qua I vincitori Del primo E del secondo posto Del torneo Di PS3 E Beh Non ci sono soltanto i capitani Adesso lascio che I team invadano lo stand E vengano a salutare tutti Eeeh 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 Eeeh